Lei è stato un attore di questa bellissima giornata dove abbiamo visto il ministro colpito da questa organizzazione così compatta e così coesa. Bene, oggi era sicuramente importante che la famiglia Xein fosse presente e mostrasse quelli che sono i reali contenuti della stessa, quindi il mondo associativo e tutto. Questo ha evidentemente colpito il ministro. Il messaggio fondamentale è che la nostra famiglia doveva comunicargli delle criticità, a mio modo di vedere, nel nostro mondo. Il ministro molto opportunamente ha preso degli appunti e questo ci consentirà sicuramente nel prossimo futuro di verificare tutte le questioni che sono sul tavolo anche del ministro per fare poi il buon lavoro per il mondo sportivo. È chiaro che l'obiettivo della giornata di oggi è quello di migliorare sia nel campo giuridico, fiscale, organizzativo, dei cralla aziendali, dei welfare e di tutto ciò che riguarda questo mondo, di migliorarlo dal punto di vista di tutti questi temi, affrontandoli anche nel modo migliore con la politica. Questo è secondo me il servizio che deve rendere XAIN ai propri affiliati e perché no all'intero mondo sportivo che come diceva il nostro presidente è un mondo che investe 15 milioni di cittadini italiani e oltre 100 mila tra SDS che operano nel nostro settore. Il mondo dello sport, come ha detto bene il ministro, è un mondo che deve essere attenzionato, deve essere protetto, tutelato perché è la base per la crescita dei nostri figli. Certamente le regole servono ma io aggiungerei anche le motivazioni. Il mondo dello sport dà tante motivazioni come è emerso anche dal convegno, dall'incontro. Motivazione o agonismo non vuol dire vincere la gara ma significa essere coinvolto positivamente a raggiungere degli obiettivi e questo lo sport lo sa fare molto bene. E soprattutto in un momento in cui la società è orientata verso la tecnologia, vediamo giornalmente, io insegno anche, vedo i ragazzi messi sempre davanti alla tecnologia, quindi i telefonini, i giochini elettronici eccetera eccetera e con il rischio che perdano di vista la realtà. Lo sport secondo me e secondo penso tanti può dire la sua nel miglioramento della qualità della vita di ognuno di noi. XAIN presentando la propria realtà nazionale, tutte le regioni eccetera eccetera ha affrontato il problema dello sport come termine generale da un punto, con una prospettiva diversa da quella tradizionale dello sport organizzato, quindi con il Ministero dello Sport ed altro ancora ma si è confrontato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e questo io credo che sia un grande merito culturale e politico dello XAIN al di là di ogni ideologia perché ha fatto capire che dietro allo sport praticato c'è tutta una realtà di lavoro di persone che ha bisogno di essere regolamentato detto in termini semplici senza entrare in tecnicismi. Quindi il merito dello XAIN in questa giornata e di tutte le persone che si identificano nello XAIN è stato proprio questo, pensare che lo sport ha anche tutto un aspetto di cui non si parla che non è sulle prime pagine dei giornali ma che interessa migliaia, centinaia di migliaia di persone dal punto di vista professionale e quindi questo è stato secondo me il bello e il significativo di questa giornata XAIN qui nel palazzo di Confindustria dove XAIN è nato 65 anni fa. Quindi la formazione è molto importante soprattutto anche sulla legislazione che è quella che viene un pochettino tralasciata e poi ci sono dei problemi anche con dei controlli che giustamente vengono fatti e quindi poi le associazioni si trovano in difficoltà. Ma sì perché ripeto lo sport come parola omnicomprensiva interessa vari ministeri, molti enti e spesso e volentieri a livello normativo esistono delle conflittualità per cui non c'è un'impostazione unica del problema. Comunque passando attraverso la presa di coscienza dei problemi e la ministra oggi, senza cattalfo devo dire prendendo appunti si è resa conto di quelle che sono le difficoltà di questo mondo. Ovviamente non poteva darci oggi le risposte però si è resa partecipe e ha preso atto vista anche la capacità dei nostri relatori di quelli che sono i problemi legati al mondo dello sport di ricevo. Lo sport non è solo stage, non è solo palco ma c'è anche un dietro le quinte e oggi Xein secondo me con merito si è occupato dietro le quinte, di tutte le persone che in modo volontario, semiprofessionale ed altro ancora fanno sì che lo sport diventi un fenomeno sociale e non solo esclusivamente tecnico che è la sua natura. Presidente possiamo essere veramente fieri oggi perché non abbiamo toccato solo il sociale, l'associazionismo o comunque allo sport ma abbiamo parlato dei problemi e soprattutto delle leggi che regolano e tutelano le associazioni e questo forse forse è proprio il caso di dirlo che Xein sa prende una nuova strada quindi la strada della tutela ma soprattutto la strada della legislazione delle associazioni. Grazie, Xein ha aperto la strada che in realtà esiste da sempre, quella istituzionale quindi abbiamo deciso finalmente che abbiamo la struttura, i tecnici, le professioni, abbiamo la qualità, abbiamo anche il seguito del nostro associazionismo che è numerosissimo al di là di quello che si possono vedere dai numeri riepilogativi, nazionali che vengono sbandierati ma dietro ci sono i cralli, ci sono le società di base, c'è gente che ogni mattina si alza, va a lavorare, è meglio perché poi sa che ci va a divertire all'interno delle sfide aziendali e dei cralli quindi pieno welfare e noi abbiamo scelto la strada istituzionale che è quella del colloquio, dell'apertura, del porre gli interrogativi e confrontarci ma non attraverso pubblicazioni terze sui giornali ho mandato a dire, abbiamo avuto la fortuna che un ministro avendo studiato che XAIN è uno spaccato dei 15 enti di promozione sportiva e sociale che esistono in Italia, quindi rappresentiamo un mondo di 60.000 associazioni, di 700.000 lavoratori all'interno volontari e di un indotto enorme di punti di pil nazionali importanti, il ministro ha capito che poteva scegliere un che era al di fuori da qualunque provenienza di nascita di partito, noi nasciamo da una volontà di Angelo Costa di Confindustria quindi siamo esattamente amici di chi lavora e siamo promotori del mondo che lavora e lavorare bene e dare una casa dove in realtà il lavoro è un piacere perché si si sente bene fisicamente e quindi devo dire la verità che la strada istituzionale era l'unica che potessimo portare avanti. Il ministro è stato veramente disponibile a rubare del tempo ad un'Italia che in un momento di evoluzione e di trasformazioni e di adeguamenti e noi abbiamo posto i punti interrogativi che è la sommatoria delle esigenze delle nostre associazioni che poi rappresentano sicuramente amplificandole uno spaccato nazionale e sono certo che avrà preso sicuramente dati, avrà preso appunti come ha dichiarato nella sua chiusura finale e che ci inorgogliscono perché abbiamo contribuito comunque a livello neutro e mai personale nell'interesse comune dello sport. Grazie. 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 Grazie.